Il progetto si può fare consiste nel realizzare alcuni kit come quelli che potete vedere in questo scatolone da consegnare ad alcune scuole elementari e medie e permettere ai ragazzi di realizzare dei propri giocattoli e successivamente svolgere un concorso che svelerà il vincitore e otterà un premio. Con questo progetto mi auguro di imparare a collaborare meglio con i miei compagni, inoltre sono sicura che migliorerò anche il mio inglese in quanto il progetto coinvolge anche diversi gruppi di persone provenienti anche dall'estero. Grazie a questo incontro multiculturale potremo entrare in contatto con la Finlandia o la Gran Bretagna e quindi questo ci permetterà di conoscere il modo di vivere di altre persone e di entrare in collaborazione con loro. La realizzazione di questi simpatici giocattoli permetterà di entrare in contatto con la fisica e di approfondire il mondo di alcune delle sue leggi e una di queste è il magnetismo, infatti i kit conterranno dei magneti. Da questo progetto mi aspetto di imparare sia a collaborare con i miei compagni che nel realizzare dei nuovi progetti, dei nuovi programmi anche in vista.